E da dove venite? Da la signoressa. Quanto tempo ci avete messo? 18 minuti. Bellissimo, una cosa straordinaria. Contenti insomma? Ci scendiamo a Bassano adesso. Ci voleva? Eh sì. Ci voleva. Finalmente, una bella cosa, Zaia, bravissimo. Dalla Francia. E quanto tempo ci avete messo? 8 ore. Ieri ha inaugurato questa superstrada, l'apertura, come si sente? È contento che adesso può raggiungere Bassano? Velocissimo. Da dove venite? Noi veniamo da Montebelluna. Ah, come sta andando? Benissimo. Molto bene. Ma siete contenti che dell'apertura della Pedemontana? Ovvio, contentissimi, sicuramente, certo. Quindi lo accederete sempre più spesso? Sì, perché è comoda, quindi la facciamo frequentemente. Per lavoro o per piacere? Entrambe le occasioni. Questa è una novità, questa autostrada? Sì, no, infatti, esatto, è una novità, perché infatti mi sembrava strano che uscite dall'autostrada e dopo ce n'è un'altra. Eh, no, beh, l'hanno appena inaugurata, quindi bene, vediamo magari fra qualche anno. Da dove venite? A Alessandria. A Alessandria, in Piemonte. Vi recate spesso a Bassano? No, è la prima volta. Prima volta. Quindi siete contenti dell'autostrada? Eh sì, almeno, abbiamo prima già lungo il viaggio, quindi, assolutamente. Da Arsiero. E siete contenti dell'apertura della Pedemontana, del nuovo tratto a Montebelluna? Bello, comodo, molto comodo. E lo prenderete spesso adesso? Certo che sì, ovvio.